Il cinema italiano è pieno di contributi pubblici, non solo quelli statali, diretti o fiscali, ma anche quelli delle regioni, degli enti locali quando si gira sul loro territorio. Nel 2015 abbiamo realizzato 185 film, praticamente uno ogni due giorni. Eppure, con rare eccezioni, il nostro è sempre un cinema che arranca. Nei primi sei mesi di quest'anno la quota di mercato del nostro cinema ha fatto registrare un misero 18%. Sarà per questo che il ministro Franceschini ha voluto costringere gli italiani a guardare nazionale in tv, più di quanto non fosse già, aumentando le quote di tempo settimanale da riservare nella fascia oraria di prima serata alla produzione italiana. Chissà se, prima di approvare l'aumento in consiglio dei ministri, si sono chiesti perché i film italiani, spesso appunto sussidiati, non piacciono. Se se lo fossero chiesti veramente, ci avrebbero forse pensato due volte. Perché non è obbligando gli italiani a guardare i film nostrani dal salotto di casa che questi possano essere meglio apprezzati. E comunque, è piuttosto inquietante che lo Stato creda di doverci dire cosa guardare la sera. Da qui, a dirci cosa dobbiamo leggere, o quale musica dobbiamo ascoltare, è veramente questione di un attimo. Grazie a tutti.